buonasera e bentornati a flash news l'appuntamento quotidiano con l'informazione sui canali social di per sempre news iniziamo il notiziario di oggi con sylvester stallone sylvester stallone ha detto addio agli stunt fai da te durante i prossimi film che lo vedranno protagonista l'attore italo americano molto spesso realizzava da solo senza controfigura le sue acrobazie ultimamente però complice anche l'età che avanza stallone è stato vittima di diversi incidenti soprattutto sul set del primo film della saga dei mercenari dopo ben sette operazioni chirurgiche l'attore di rambo e rocky ha detto basta il suo fisico non ha più la stessa resistenza di un tempo e per questo ha deciso saggiamente di affidarsi a stuntman che prendano il suo posto durante le scene più pericolose dei film lo ha rivelato lo stesso attore durante la seconda stagione della docu serie the family stallone in cui lo vediamo prepararsi al settimo intervento chirurgico alla schiena per ridurre le conseguenze delle ferite riportate sul set nel 2010 ferite subite nel corso di uno stante in cui doveva combattere contro la leggenda del wrestling steve austin parliamo ora di danny alves è arrivato il verdetto per il giocatore che è stato condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione con l'accusa di stupro la vicenda in questione risale alla notte del 30 dicembre 2022 quando durante una serata in discoteca avrebbe violentato una ragazza nei bagni in aggiunta alla condanna è stato stabilito che l'ex barcellona dovrà risarcire la vittima 150 mila euro e il pagamento di tutte le spese legali inoltre il brasiliano dovrà scontare anche cinque anni di libertà vigilata il difensore in custodia cautelare da oltre un anno si rivolgerà in appello alla corte superiore di giustizia della catalogna chiudiamo il notiziario di oggi con l'operazione gallicò questa mattina 18 persone sono state arrestate a reggio calabria nell'operazione congiunta della polizia di stato e comando provinciale dei carabinieri le indagini sono sono state coordinate dal procuratore della repubblica della direzione distrettuale antimafia giovanni bombardieri e sono 40 le persone indagate per i reati di associazione mafiosa omicidio detenzione illegale di armi estorsione usura e intestazione fittizia di beni per 16 degli arrestati è scattato l'arresto in carcere mentre degli altri due uno dovrà scontare la pena agli arresti domiciliari mentre l'altro ha l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria queste erano le notizie di oggi vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con flash news sarà domani sempre sui canali social di per sempre news buona serata